Giuseppe Garibaldi come realizza la sua spedizione dei Mille? Giuseppe Garibaldi riuscirà a realizzare la sua spedizione dei Mille? Grazie alle sue grandi capacità riuscirà a convincere i contadini e i patrioti a seguirlo nella sua spedizione. Pian piano il numero di mille Garibaldi che hanno iniziato la spedizione di Mille si allarga sempre di più. Gli promette, dà delle promesse per cui molte persone lo seguiranno in questa impresa eroica e ritenuta folle, con circa 1000 Garibaldi e le persone che riuscirà a convincere, pian piano riuscirà a conquistare il regno, lo Stato nato dopo il congresso di Vienna che costituiva la metà dello Stato italiano. Gli promette, dà delle promesse per la sua spedizione di Mille? ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, al prossimo video. Vi aspetto.